Buongiorno, sono Lidia Redonno, consulente immobiliare Remax Stella Polare. Oggi siamo all'ingresso di Parco 2 Giugno, a pochi passi da un immobile che voglio proporvi. L'appartamento è all'interno di un'area recintata, con verde condominiale e posti auto. Un salone doppio, due camere, due bagni con finestra, cucina abitabile, ripostiglio, tre balconi con triple esposizione e un posto auto scoperto, completano la proprietà. Vi aspetto!